Il dono per me, il primo dono in assoluto, è la vita che io ho voluto rappresentare in questa scultura in gesso. Questa scultura infatti rappresenta due mani adulte che donano la loro vita a due mani più piccole, che sono le mani di un bambino, il quale la custodisce. Questo per me è proprio il primo dono, il dono della vita.